Primo caso di Omicron 2 in Abruzzo e il contagiato è un neonato. Un bimbo di un mese è ricoverato nel reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Chieti dove è stato trasferito dal pronto soccorso di Vasto. Il piccolo è sottoposto a terapia trasfusionale per via di un quadro anemico emerso dagli esami ma non presenta né tosse né difficoltà respiratorie e le sue condizioni sono stabili. Ormai la sottovariante Omicron 2 ha una prevalenza pari alla 40 44% ed è stata isolata nella quasi totalità delle regioni ha commentato Diego Gazzolo direttore del reparto dove è ricoverato il neonato. In Abruzzo si attesta al 23,6% non è più severa della variante originale e la vaccinazione con dose booster garantisce un'alta protezione ha aggiunto Gazzolo. Nelle ultime 24 ore complessivamente sono stati 2269 i casi di covid in Abruzzo per un tasso di positività tra test antigenici e molecolari di quasi il 14%, 5 decessi e 13.702 guariti. Nella nostra regione attualmente i positivi sono 32.870 di cui 272 pazienti, 5 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in terapia intensiva e 15, due in più rispetto a ieri, sono quelli in area medica. Dei casi odierni 666 fanno riferimento alla provincia di Teramo, 611 a quella di Chieti, 449 al Pescarese e 398 all'Aquilano. 25 decontagiati provengono da fuori regione mentre per altri 90 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza.